Appena terminata la sfida tra Sport Management e Bogliasco Bene, 17 a 4, il successo per i padroni di casa, non vittoria consecutiva, siamo con il capitano Valentino Gallo, allora dopo la vittoria di Trieste, questa contro Bogliasco Bene, un ottimo inizio di 2018. Sì, un ottimo inizio, come ha detto Gu prima della partita, ci interessava maggiormente giocare bene in difesa, siamo stati un po' distratte all'inizio, però poi la difesa ha retto bene, comunque 4 gol subiti in questa partita, se non sbaglio 3 contro il Trieste, dimostrano che comunque la difesa sta andando bene, è quella cosa che ci interessa di più. Ancora in attacco siamo un po' macchinosi perché comunque queste feste, questi dieci giorni di vacanza un po' indeboliscono un po' tutti, ti appesantiscono un po', però smaltiremo anche questi, ci prepariamo alla prossima settimana dove affronteremo un Savona che sicuramente è un avversario ostico, comunque abbiamo sofferto già in Coppa Italia all'inizio stagione, quindi sarà una bella partita. Poi ci sarà la Coppa, questa qui però era per voi una settimana di carico, proprio in vista di quelle due partite, avete come dici tu giocato un po' col freno a mano tirato nei primi due tempi, poi però terzo quarto 7 a 0, 11 a 0 contando anche il quarto parziale, un break che poi fondamentalmente ha deciso la partita, quando vi siete sbloccati? Sì sì, poi diciamo che avendo come dici ben tu, hai detto bene tu caricato questa settimana, all'inizio eravamo un po' contratti, poi quando ci siamo sciolti un po' le cose sono venute un po' più facilmente. Adesso ci ricominciamo, ci ricordiamo questo giorno e mezzo di vacanza per ricaricare le batterie, dall'unitì già subito testa sull'allenamento perché ci aspetta una settimana abbastanza dura, perché comunque poi affronteremo il Savona e poi come hai detto bene tu la Coppa, quindi abbiamo due partite in dieci giorni, due partite che decidono tutto per il nostro campionato. Ciao a tutti.